Per la prima volta far parte di un personaggio nel mondo dell'animazione è sicuramente un'esperienza per me nuova, molto divertente e soprattutto penso un bel ricordo che mi porterò dopo questa bella esperienza sperando magari di ripeterla un giorno in futuro Ehi, sono qui, mi chiamo Zangif, sono un cattivo Il mio personaggio è Zangif, è un personaggio grosso e un po' cattivo Ogni tanto pensavo, perché devi essere così cattivo Zangif? Perché non puoi essere un po' più buono? Beh, dell'affinità tra Zangif e me personalmente, non lo so, sicuramente come sportivo in campo e giocando a rugby bisogna alle volte essere un po' cattivo Fidati, una partita alla volta, Rall